Prima tu dicevi qualcuno chiede la testa di Di Maio, ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda, perché Di Maio ha annunciato negli ultimi tre mesi che è sconfitto alla povertà, che è in arrivo un boom economico e oggi di fronte a questo risultato ha detto che i 5 Stelle sono vivi e godono di ottima salute, quindi è una persona che ha perso la testa e quindi non si può prendergliela, dopodiché fuori di metafora, gli elettori Grillino non capisce più se questo partito è per la TAV contro la TAV, per la legalità contro la legalità, per chiudere l'ILVO per tenerla aperta, per chiudere la TAV per tenerla aperta, per fare la lotta agli immigrati o no, è un partito che ha perso completamente la sua identità e almeno in Sardegna questi voti non sono andati a Salvini, poi d'altre parti lo vedremo, in Sardegna no. Grazie Grazie